Eccoci qui, torniamo in diretta anche questo pomeriggio, buon pomeriggio a tutti voi in questo ottavo giorno di novena in cui ricordiamo che è la giornata dedicata all'ammalato e alla sofferenza. 21 settembre salutiamo e diamo il benvenuto alla nostra ospite che sarà anche una compagna di viaggio nella nuova stagione di Padre Pio TV, Sor Cristina Pievani, superiore a delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù, le Suore appunto impegnate in casa sollievo volute proprio da Padre Pio a portare la loro missione e la loro assistenza spirituale agli ammalati. Benvenuta Sor Cristina. Grazie, buonasera a tutti. È un grande piacere averti qui, ma soprattutto vogliamo aprire con una foto speciale. La foto che vedete anche qui nel nostro grande LED wall, data ci è stata concessa, perdonate la confusione, dal fotografo di casa sollievo della sofferenza Michele Martino perché quest'opera da lui creata, il volto di Padre Pio, è ricostruito attraverso migliaia di foto di pazienti che sono stati ricoverati in casa sollievo proprio in quest'anno terribile di pandemia. Abbiamo voluto aprire con questa foto proprio perché è una foto molto significativa, molto simbolica. Perché? Perché il volto di Padre Pio è composto dalle tante foto delle tante persone che sono transitate nell'ospedale casa sollievo della sofferenza. Questo ha testimonianza che dietro quelle foto ci sono tante storie, tanti volti, perché l'ospedale non è solamente un luogo di cura, ma è anche un luogo di incontro e di umanità. Ancora di più l'ospedale fondato da San Pio e da Pietrelcina e Sor Cristina lo sa benissimo questo perché di umanità ne incontrate tanta, no Sor Cristina? E con lei in questa nuova stagione racconteremo tante di queste storie. Quindi anche per questo che l'abbiamo voluta chiamare ospite in questa giornata perché tra i nuovi programmi ci sarà proprio un programma dedicato alle tante storie di testimonianze di persone legate a casa sollievo della sofferenza, persone che hanno intrecciato la loro vita con questa grande realtà. Ma a proposito di questo vorrei partire proprio da una storia di qualche mese fa che mi ha particolarmente colpito, non solo a me ma a tanti. Guardiamo questa clip insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E queste le note magnifiche suonate dal maestro violista Raffaele Desanio tutti gli ammalati avrebbero bisogno di vivere sempre qualcosa di bello hanno bisogno di musica nel loro percorso verso la guarigione quindi il maestro Raffaele Desanio ha voluto in quell'occasione in cui lui stesso era ricoverato in casa sollievo della sofferenza offrire il suo talento offrire la sua musica e omaggiare l'ospedale e tutti gli ammalati di questo davvero spazio molto emozionante noi siamo contenti di averlo collegato proprio via Skype l'abbiamo rubato al suo lavoro al suo conservatorio ai suoi esami maestro benvenuto grazie davvero per essere qui Buon pomeriggio a voi Io ho ricordato la sua frase che mi ha colpito molto che vado a rileggere con precisione lei ha detto avrei voluto tanto dedicare un'intera serata di musica a questo ospedale ma purtroppo la malattia me lo ha impedito in quest'ultimo anno ho capito che gli ammalati tutti gli ammalati nel difficile percorso verso la guarigione hanno bisogno di vivere sempre qualcosa di bello hanno bisogno di musica è stato così? è certo, certo che è così e in effetti dopo qualche ricovero avevo proprio questa voglia di dare un mio contributo per quello che potevo fare appunto omaggiando un po' sia tutto il personale medico sia gli ammalati di qualcosa che per me è bellissimo la mia musica la musica di tutti di dare questo messaggio di dare passione di dare sollievo anche allo spirito attraverso appunto la musica e questo anche a dimostrazione che le cure ovviamente e il prendersi cura non riguarda solamente ed esclusivamente l'aspetto medico e scientifico sacrosanto è ovviamente alla base di tutto mai tra l'altro come in questo anno lo abbiamo capito ma la cura passa anche attraverso questi gesti per dimostrare anche la propria vicinanza è caduta la linea allora io Sor Cristina rivolgo a te la stessa domanda perché voi appunto suore apostole del sacro cuore di Gesù siete impegnate in casa sollievo proprio per portare un'assistenza che è spirituale che va al di là ovviamente di quella medica sì oltre a collaborare con con l'assistenza professionale abbiamo proprio questa missione all'interno di casa sollievo sia quella dell'intercessione sia quella di aiutare appunto i pazienti con il conforto con l'aiuto della proponendo i momenti di preghiera ma anche ascoltando e infatti la nostra grande sofferenza durante la pandemia è stata di non poter accompagnare questi pazienti e poi parleremo anche di questo perché so che anche questo è stato un aspetto doloroso che davvero come dire vi ha messo a dura prova e quindi avremo modo di parlare anche di questo intanto è stato ripristinato il collegamento col maestro Desagno che io so che deve scappare quindi le rubo soltanto un minuto intanto anche per avere una sua testimonianza anche di quella che è un po' una grande famiglia a casa sollievo della sofferenza no? Certo certo questo sicuro e ormai almeno per me è diventata un po' di casa purtroppo diciamo avere questo contatto con l'ospedale ma la cosa bella è che comunque si sono creati dei rapporti di famiglia all'interno con tutti i medici che mi hanno assistito il personale tutto insomma Maestro so tra l'altro che lei sarà anche tra i protagonisti del concerto che ci sarà qui nel giorno della festa di Sampio il 23 settembre certo certo il 23 faremo un concerto nella chiesa grande e sì ci sarò anche io con un'orchestra importante con un grandissimo maestro direttore d'orchestra e pianista e sicuramente avremo modo di ascoltare la sua musica ancora una volta e per più tempo questa volta diciamo in versione ufficiale se possiamo dire così io la ringrazio davvero tanto Maestro per essere stato con noi per aver portato la sua testimonianza mi ripropongo anche di offrire se possibile in futuro una serata ad hoc per l'ospedale appunto durante che ne so tipo i festeggiamenti di Natale di Capodanno cercheremo di organizzare con voi qualcosa per l'ospedale Sor Cristina farà da tramite allora Sor Cristina raccoglierà questo invito e speriamo che insomma questo desiderio possa essere realizzato grazie ancora Maestro Desanio e buone cose e alla prossima grazie allora Sor Cristina sono belle queste storie perché appunto quello che colpisce è come gli ammalati poi vivano anche in maniera diversa la malattia quando c'è un sostegno anche psicologico spirituale umano tu sicuramente le storie ne hai incontrate tante questa esigenza dell'ammalato l'avrei potuta proprio toccare con mano beh sì è chiaro che la malattia è il momento in cui noi sperimentiamo la nostra fragilità e quindi poter avere vicino qualcuno che veramente ci dà una mano ci capisce anche perché tante volte la malattia il problema della malattia non è soltanto legato al fatto dell'impotenza fisica del momento ma è anche legato ad esempio a problemi familiari che si trascina dietro problemi di rapporto di relazioni e quindi potersi anche solo confidare poter affidare a qualcuno le proprie preoccupazioni eccetera che a volte sono molto intime molto personali è chiaro che come religiose diamo una certa garanzia e quindi la gente ci affida davvero tanti pensieri tante cose che poi noi portiamo nella preghiera ma anche così facciamo da sostegno ed è anche sarà sicuramente bello anche raccontarle queste storie queste testimonianze così appunto abbiamo scelto tu sarai il nostro gancio no Sor Cristina si dice così anche in gergo televisivo per appunto raccontare queste storie che poi diventano testimonianze e lo faremo come abbiamo ricordato nel corso della nuova stagione ora ci fermiamo qualche istante diamo la linea alla regia per pochi minuti ma poi torniamo ancora qui io e Sor Cristina ritorniamo in diretta da San Giovanni Rotondo dai nostri studi Padre Pio TV in questo ottavo giorno di novena siamo in compagnia di Sor Cristina Pievani superiora delle suore apostole del Sacro Cuore di Gesù che sarà una nostra compagna di viaggio nella nuova stagione di Padre Pio TV perché con lei racconteremo le tante storie di umanità che passano e transitano in un luogo speciale come quello dell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza Sor Cristina prima a telecamere spente parlavamo anche della grande sofferenza che avete vissuto nel pieno della pandemia perché non siete più potute essere accanto ai malati soprattutto poi ai malati covid che diciamo oltre alla tragedia della malattia hanno dovuto vivere anche la tragedia della solitudine voi siete state anche in quarantena con tutta la comunità abbiamo avuto otto consorelle contagiate tra cui anch'io per cui tutta la comunità è stata in quarantena quasi due mesi ed è stata un'esperienza abbastanza sofferta ci siamo dedicate all'intercessione in quel periodo e poi anche quando siamo uscite comunque anche per proteggere la parte più fragile della comunità non abbiamo mai potuto entrare nelle parti covid ci siamo fatti un po' presenti ad esempio per Pasqua abbiamo mandato l'ulivo benedetto eccetera che chi la e abbiamo anche cercato di essere un po' vicini al personale perché veramente per il personale è stato pesante io ho in mente il pianto di rotto quando durante il mese di maggio quella sera che abbiamo è toccato a noi fare il viaggio dalla Madonna delle Grazie ed è stata una nostra dottoressa che aveva lavorato in questi reparti covid a portare la Madonna e poi si è appreascoppiata a piangere e mi diceva che aveva accompagnato la Madonna pensando a quanti malati erano morti da soli dice che ti guardavano disperati fai tu dovevi anche correre non potevi proprio stare lì dice non è umano morire così da soli adesso grazie a Dio la situazione è un po' cambiata però è stato terribile per tutti perché anche i malati non covid comunque non potevano avere vicino nessuno questo chi l'ha provato sulla propria pelle e soprattutto i tanti operatori sanitari che hanno davvero vissuto soprattutto nella prima ondata uno scenario davvero di guerra sono segni che portano sicuramente porteranno addosso a loro va tutta la nostra vicinanza il nostro grazie perché poi sono stati chiamati eroi giustamente poi però queste cose si dimenticano si tende a dimenticare è triste anche a volte vedere come chi non ha vissuto sulla propria pelle faccia fatica a capire la gravità di quello che è successo e questo dispiace molto perché dovremmo essere davvero tutti capaci di grande compassione abbiamo vissuto una pandemia devastante che ha colpito tutti poi tra l'altro tu sei di Bergamo e quindi come dire hai vissuto e sai benissimo che cosa ha significato anche per quella terra che è stata così duramente colpita vogliamo rivivere insieme un momento di preghiera che proprio nell'aprile del 2020 si tenne davanti all'ingresso nel prono di casa sollievo della sofferenza guardiamolo insieme affidiamo con questo breve momento di preghiera a Maria salute degli infermi a San Pio da Pietracina nostro padre e fondatore la nostra supplica per ottenere la benedizione divina su casa sollievo della sofferenza sui malati che vi sono accolti su tutti coloro che si prodicano a loro servizio rischiando la loro stessa salute e la estendiamo agli operatori qui presenti della forza dell'ordine del volontariato delle varie associazioni che in questo momento si danno da fare perché la nostra società e in particolare chi soffre trovi sollievo conforto e salute e stendiamo la benedizione a questa nostra città di San Giovanni Rotondo così prediletta tanto da essere stata scelta come patria di vocazione di San Pio da Pietracina Padre nostro che sei di cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in ceno così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amo è stato un momento molto intenso la preghiera che è stata presieduta appunto dal nostro arcivescovo Padre Franco Moscone presidente di Casa Soglievo della sofferenza alla presenza poi delle forze dell'ordine di volontariato perché davvero ognuno nel proprio ha fatto la sua parte in questa lotta davvero terribile in Casa Soglievo Sor Cristina voi suore e apostole del Sacro Cuore di Gesù ci siete dal 23 settembre del 1955 quando Padre Pio dovendo scegliere l'ordine religioso al quale affidare la cura spirituale degli ammalati disse io le suore le ho già scelte non ebbe dubbi e quindi la vostra missione come dire è guidata da una una presenza importante come quella di San Pio diciamo un faro che illumina un po' tutta l'attività dell'ospedale sì sicuramente la presenza di San Pio ma in fondo è anche la realizzazione di un mandato della nostra fondatrice c'è una lettera che Madre Cleglia scrive alle suore di un ospedale di San Paolo del Brasile dove dice specificamente gli amministratori vi affidano la buona conduzione dell'ospedale anche perché all'epoca le suore avevano un pochettino in mano tutta dice ma Dio vi affida il conforto e la guida delle anime seguite tutte e due queste missioni e anche in altri in altri scritti quando parla dei malati Madre Cleglia è assolutamente precisa nel dire dovete essere professionalmente perfette seguire le indicazioni far tutte le cose bene non dimenticatevi che esiste un'anima che esiste uno spirito dovete essere madri dovete essere tenerezza a proposito di Madre Cleglia tu mi hai anticipato io avevo preparato una sorpresa per te che abbiamo già visto qui nel nostro led wall ovvero riviviamo insieme adesso proprio il momento della beatificazione del giorno della beatificazione di Madre Cleglia Merloni fondatrice appunto del vostro ordine guardiamo insieme questo momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ecco qui Sor Cristina che ricordo hai di quella giornata dove eri tu in quel momento in quel momento io ero dietro il pilastro che lasciavo giù il telo ecco quindi non ti abbiamo visto nell'inquadratura eri oscurata dal pilastro mannaggia che lasciavo giù che lasciavo giù il telo vabbè per noi è stato un momento grandissimo perché la storia di Madre Cleglia è una storia molto molto tormentata e lei ha dovuto lasciare a un certo punto il governo dell'istituto è stata tanti anni fuori dall'istituto quando è rientrata non è rientrata come fondatrice è tenuta tenuta nascosta e per tanti anni le suore le giovani che entravano non sapevano che era lei la fondatrice per cui arrivare alla beatificazione è stato un momento vabbè mi viene ancora da piangere mi sembra giusto è stato un momento emozionante è stato un momento grandissimo anche perché è chiaro che è una grandissima spiritualità e non mi stupisce che San Pio ci abbia scelte perché in fondo ci troviamo la carità e la preghiera l'immolazione sono sono cardini di tutte e due le spiritualità da adesso San Pio ci aveva già conosciuto prima quando eravamo nell'ospedaletto in paese e le le cronache il racconto dicono che quando le suore sono andate a salutarlo in lacrime quando hanno dovuto chiudere l'ospedaletto in paese lui gli ha detto voi tornerete tornerete qui indicando la montagna e così è stato e direi che comunque i tanti ricoverati che sono in casa sollievo ma non solo anche il personale di casa sollievo con voi suore c'è sempre stato un legame davvero molto importante siete lì una presenza preziosa ed è per questo che noi ti abbiamo anche scelta per raccontare poi quello appunto che succede le tante storie delle persone che si trovano lì in casa sollievo anche soprattutto Sor Cristina permettimi di dire anche per portare un messaggio di speranza perché sono storie anche tristi quelle che racconteremo però sono storie anche che ci ci raccontano qualcosa in più anche su come si può vivere la sofferenza in maniera diversa adesso senza anticipare nulla perché poi insomma avremo tempo per costruire e raccontare tutto questo però c'è sempre un tratto comune in queste storie che è anche una forma di accettazione e di vivere la sofferenza in maniera diversa sì c'è c'è il fatto che sentirsi amati e sentirsi supportati aiuta a capire che nella sofferenza Dio non abbandona ma ci sta dicendo qualcosa e ci sta anche dando qualcosa anche se è chiaro che non è facile vederlo spesso ci sono dei momenti da passare anche molto duri però l'amore aiuta a scoprire Dio anche nei momenti più più tragici e più impegnativi o comunque dà la forza di affrontare poi situazioni che non sono per niente facili da portare e questo è il nostro il senso del nostro essere lì dire che comunque Dio c'è anche in mezzo a quel mare di sofferenza e quindi ce lo diceva anche oggi il nostro civescovo chi si trova a casa soldievo è perché è stato chiamato ad essere lì e quindi ha una missione da portare lì esatto parlava di questo grande ospedale da campo così l'ha definita anche la presenza non solo di casa sollievo ma anche del santuario la cura appunto del corpo ma anche la cura delle anime a proposito di questo adesso ascoltiamo questa clip preziosa che ci ricorda proprio la missione che Sampio volle affidare al suo ospedale voi avete la missione di curare il malato ma se al letto del malato non portate l'amore non credo che i farmaci servano molto io ho provato questo quando il mio medico curandomi mi recava prima di tutto una parola di conforto l'amore non può fare a meno della parola voi come potreste esprimerlo se non con parole che sollevino spiritualmente il malato portate Dio ai malati varrà più di qualsiasi altra cura è quello che dicevi tu che ci hai ricordato tu proprio poco fa che si racchiude in un'unica parola possiamo dire che è quella dell'amore sicuramente a proposito di incontri tu raccontavi prima l'incontro di Padre Pio con le suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù e la sua profezia di ritorno come così poi fu appunto con la loro presenza in casa sollievo della sofferenza ci sono tantissime le vite che si sono incrociate con quella di San Pio che sono cambiate anche percorsi che hanno preso direzioni diverse proprio per la sua presenza tanti medici che hanno contribuito a rendere grande questo ospedale che sono venuti qui a prestare il loro servizio vogliamo ascoltare la testimonianza del dottor Graziano Pretto che fu proprio il medico che aprì grazie a lui si nacque il reparto Torino in casa sollievo della sofferenza questo è uno stralcio di una lunga intervista realizzata dalla collega Maria Pia Picciafuoco ma ascoltiamo queste parole a questa breve testimonianza quando si fa il medico veramente si entra un po' dentro nella persona io adesso come adesso visito le persone e non le visito con compenso sai perché? perché voglio essere libero e gustare la libertà facevamo ore e ore di sala operatoria veramente con fatica fisica e poi però con i risultati ecco c'erano i risultati sempre c'era è come se avessimo avuto sempre una mano protettiva di padre Pio che ce li faceva andare tutti bene questi interventi che ne so io ero in prime armi naturalmente mi sono fatto da solo in tutte le maniere con i libri e via discorrendo con grandi fatiche con grandi angosce proprio sogno no però la sensazione di avere un aiuto sì la sensazione fisica di essere aiutato da padre Pio in tutte in tutte le mie situazioni soprattutto quelle professionali naturalmente ma anche in ambito familiare pensiti cioè io ero convinto che eravamo tele Pio comandati con queste persone sempre avevo bisogno di agganciarmi non soltanto al sintomo che mi raccontavano ma alla loro storia a quello che stava al di là dei loro occhi di quello che era la loro sofferenza ma guardi ho esempi a non finire in questo senso al di là del sintomo quello proprio di cui parlavamo prima sono tanti i medici che hanno contribuito davvero a rendere grande questo ospedale e queste testimonianze di umanità perché poi è anche questo che fa la differenza ora tu non hai conosciuto il dottor Pretto perché sei arrivata da poco relativamente poco in casa sogliava della sofferenza però immagino che di umanità anche nel personale medico ne hai vista tanta ne continui a vedere tanta il medico che si avvicina e come diceva il dottor Pretto guarda al di là del sintomo no? sì ma lo si vede anche anche i pazienti hanno le antenne per i medici per il personale che al di là oltre alla professionalità ha anche proprio questo approccio e tu li vedi che li vanno a cercare cioè c'è il paziente che dice sì sì sarà bravo quel dottore lì però perché magari sono dei professionisti molto bravi molto competenti però che nella relazione sono molto asettici e il paziente resta un po' perplesso mentre invece altri veramente li conquistano i medici ma anche anche l'altro personale ed è molto bello questo perché veramente rende tutto più casa come come voleva padre Pio perché le consorelle dicevano padre Pio ci teneva che fosse casa e è casa se uno si sente appunto accolto perché poi un legame particolare sor Cristina a voi da quello che mi è sembrato di capire e anche di sperimentare in realtà voi lo create anche molto con i familiari perché non bisogna mai dimenticare ovviamente l'ammalato il centro di come dire di tutte le attenzioni però il sostegno va dato anche alla famiglia e quello è molto importante no? Sì è chiaro che a volte la famiglia va aiutata soprattutto quando la malattia è importante la malattia è grave cioè la vita la famiglia resta sconvolta quando poi va a colpire persone giovani che magari sono anche il perno economico della casa cioè questo fa scoppiare un mondo di relazioni per cui anche la vicinanza il fatto di poter ascoltare poter anche aiutare un po' queste persone anche il fatto di poter aiutare chi magari una famiglia non ce l'ha per cui anche nelle necessità più banali procurarsi biancheria pulita piuttosto che altro cerchiamo di aiutare e anche lì si crea un passaparola e un per cui diventa una grande famiglia assolutamente allora di questa grande famiglia di storie ne scopriremo tante ne racconteremo tante storie di umanità innanzitutto che diventano preziosa testimonianza lo faremo grazie a Sor Cristina che è stata qui con noi oggi ma sarà qui con noi anche nella nuova stagione televisiva di Padre Pio TV proprio per raccontare tutto questo per intraprendere questo nuovo viaggio insieme grazie Sor Cristina per essere stata con noi grazie davvero è stato un piacere grazie a tutti voi per averci seguito in questa prima parte ora l'appuntamento è con la preghiera ma vi ricordiamo appunto il Santo Rosario la Nodena e la Santa Messa alle ore 18 ma il nostro speciale ritorna subito dopo alla celebrazione eucaristica quindi rimanete con noi